Fabrizio siamo all'ora del derby, insomma ci siamo quasi, per te è una certa esperienza, lo dicevamo a microfoni spenti, circa il ventiquattresimo derby tra maschile, femminile e altre società, sì che vai a raffrontare, che partita ti aspetti, qual è questo, com'è, come sarà questo derby? Ma è un derby, purtroppo che, anche se loro hanno qualche punto in più, è sicuramente un derby per la salvezza, o diretta, o play out sarà una partita difficile, perché loro tra le cose sono anche una buona squadra, giochiamo in casa, cerchiamo di recuperare qualche acciaccato che abbiamo se non abbiamo tanti assenti e facciamo la prestazione che abbiamo fatto con l'Ardenza, potrebbe essere una buona giornata Fabrizio, come sa la situazione degli acciaccati, appunto, di cui parlavi, insomma erano tanti qualche settimana fa, com'è la situazione? Sì, beh, l'unico sicuro che rientra rispetto a sabato è Fattori, poi abbiamo i due fratelli Tangini-Coccaselli che anche loro sono un po' acciaccati speriamo almeno un paio di recuperarli, sicuramente Fabrizio, hai incontrato una squadra che ha cambiato da poco allenatore, è esordito proprio la settimana scorsa, come la valuti questa cosa? Nassito, lo dico, è un dispiacere non vederlo sulla panchina, a parte l'amicizia che c'è da tanti anni e poi, beh, quando si cambia allenatore sicuramente qualcosa cambia, sia nella testa dei giocatori, sia a livello tattico è chiaro che è un allenatore giovane, tra l'altro sono contento perché è stato pure il mio giocatore al campo dell'oro tanti anni fa e gli auguro, insomma, di fare una carriera, una bella carriera, anche se speriamo che cominci dopo il derby, la carriera Fabrizio, per voi forse è più importante ancora di più per quanto riguarda i punti di questa partita perché, insomma, per quanto riguarda la classifica si è rimessi un po' peggio rispetto alla S? Sì, sicuramente, poi adesso abbiamo fatto ricorso su quel punto che ci hanno levato molto ingiustamente speriamo, insomma, che risolve sta cosa, però comunque 4-5 punti di svantaggio ce l'abbiamo e è andato de fatto Abbiamo sentito Umberto Di Maio, ha detto che, insomma, al di là dei protagonisti del match a fare la protagonista di questa partita sarà il campo, probabilmente, insomma loro abituati più a giocare negli spazi larghi, voi più abituati invece qua in casa vostra Sicuramente il campo, rispetto ad una squadra che gioca sempre sul parquet, avrà la sua valenza però è pure in derby e magari ci saranno altre motivazioni al di là del campo Come la stanno vivendo i ragazzi? Che tipo di partita ti aspetti? Beh, da parte di quelli più grandi, dico, è tante volte che fanno i derby, perciò, insomma, un po' più tranquilli quelli giovani, magari, soprattutto chi ha la prima volta che l'affronta, un po' di emozione c'è